È iniziato tutto a causa di una mancata precedenza nella rotonda del centro commerciale Città dei Templi di Agrigento. L'episodio si è verificato mercoledì mattina quando un uomo di 53 anni di Agrigento insieme alla moglie è finito al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio a causa di una lite avuta con un uomo di 59 anni di porta Empedocle per la mancata precedenza nella rotonda davanti il centro commerciale. Secondo quanto ricostruito dalla polizia l'uomo Empedoclino avrebbe staccato con un morso parte della cartilagine dell'arcata dell'orecchio. In ospedale è finita anche la moglie del 53enne Agrigentino a sua volta aggredita che era intervenuta per dividere due litiganti. Marito e moglie dopo aver chiamato la polizia sono stati trasferiti in ospedale e si sono riservati di formalizzare querela di parte a carico del loro presunto aggressore l'uomo 59enne di porta Empedocle.